Inizieremo con un brano, è Medieval Twist, un brano che si trasporta in una atmosfera medievale, come dice il titolo stesso. Attraverso la musica possiamo immaginare una parata di cavalieri, ingolzioni da migelle e una movimentata festa paesana. Viva il nennascoltano Medieval Twist, dirige il maestro Giacchino Scolone a Guadagnascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.